I suoi primi tre mesi di vita io sono rimasta a casa con lui e ho iniziato a girare, spingendo la carrozzina e ho iniziato a girare per il mio quartiere. Prima quando facevo l'avvocato praticamente lavoravo dalle otto di mattina alle dieci di sera, tornavo a casa, dormivo e riuscivo, quindi non mi accorgevo di quello che c'era intorno. E così in questi tre mesi mi sono accorta che i parchi per i bambini erano tutti sporchi, le strade non avevano gli scivoli per le carrozzine, cose molto banali. E così durante questi tre mesi ho conosciuto un gruppo di persone che si radunavano in un comitato di quartiere e ho iniziato a partecipare per provare a migliorare le condizioni del mio quartiere. Ho lavorato con questo comitato per un anno, è stato molto interessante, però alla fine dovevamo confrontarci con i politici. Sì, prego. E loro hanno chiesto sempre chiesto a noi, o sempre hanno chiesto a noi, chi ti manda? Chi è la tua referenza politica? E ovviamente io non condividevo minimamente questo modo di fare politica, per cui in quel momento stava nascendo il Movimento 5 Stelle e sono entrata in questo movimento politico che guarda un po' al di là di quelle che noi diciamo in Italia, non è né di destra né di sinistra. guardiamo la sostanza delle cose. Sono entrata nel Movimento, insieme a mio marito abbiamo fondato il gruppo del municipio nel quale abitavamo e poi via via, insomma, sono diventata prima consigliere e oggi sindaco. Ok, so I began with my husband and working our way through the various municipalities and I became first councillor and now mayor. So, it's all thanks to my, thanks or it's all my little boy's fault. Spirante. Spirante, sì. Spirante. Spirante. Scirante, sì. Spirante, sì. Come con tutte queste sfide, con tutta la pressione, come trovi dentro di te il modo per stare tranquilla e andare avanti? Diciamo che mi concentro molto sul lavoro, su quello che c'è da fare. Guardo, non me ne vogliate, guardo poco la televisione, leggo poco i giornali perché ho poco tempo. La forma che mi trattavo con la pressione è che mi concentro solo su quello che deve essere fatto, e mi concentro solo su quello che deve essere fatto, e mi concentro solo su quello che mi concentro solo su quello che c'è da fare. E quindi, insomma, con i miei assessori e i miei consiglieri stiamo andando avanti in maniera molto precisa, puntuale su quello che c'è da fare. Sì, sì. Quindi, con la mia squadra, stiamo forzando avanti, lavorando hard per cercare le cose che devono essere fatte. Sì. Sì. So, as a pioniere, in a way, the title of this conference is Leading the Way, and when we lead, we are pioniering, we are the first ones going ahead, and there is a vision with most of the people leading the way. What is your vision for the future or for Rome? For... Yeah. To be a normal city with all the... That can compete with other cities in Europe, which today it doesn't do. And to really, you know, value all the various qualities that Rome has that, again, today it doesn't do to its full extent. Insomma, vogliamo riportare Roma a essere una città speciale, ma anche bella da vivere e da visitare. Yeah. We want to make Rome special and also a city that's livable and to bring it back to its former greatness. Yes. Sì. Yeah. Anything else you would like to share with us today? Grazie. C'è qualcosa altro che vorresti condividere con noi oggi? Devo dire sì. Perfetto. La lascio. Sì. Ma la cosa più importante è vedere tutta questa presenza femminile. è tutta una grande presenza femminile oggi. Perché senza voler sminuire, ovviamente, gli uomini presenti, ma solo le donne sanno quanto difficile sia provare a fare tutto, farlo bene e farlo a modo nostro, senza dover copiare gli uomini. And without taking away anything from the men that are in the room, only women know how difficult it is to do everything in our lives, how to do it well and how to do it our way without copying the masculine example. Quindi, diciamo che per me è veramente un onore, un doppio onore ospitare questa diciannovesima edizione della Global Wind Conference. E aprire oggi questi tre giorni di lavoro intensi su quali sarete tutti e tutte occupati. Grazie. Quindi per me è un doppio onore ospitare la 19th Wind Conference qui nella nostra città e per aprire i tre giorni di lavoro che ci saranno passando. immagino che durante questi incontri saranno affrontati tanti temi e mi auguro che tutti questi temi possano aprire nuove finestre per nuovi obiettivi su un futuro migliore. dobbiamo trovare nuove strade e nuovi strumenti. Questo credo sia comune a tutte. strumenti utili quanto necessari perché le donne debbano essere sostenute ogni giorno. perché ogni giorno noi siamo capaci di fare cose impensabili, ma dobbiamo in qualche modo trovare un supporto. non possiamo caricarci tutto sulle spalle. queste strumenti, queste strumenti devono aiutare le donne a gestire tutte le varie strutture che hanno. dobbiamo trovare una visione che è la nostra, una visione di fare cose che sia limpida e appassionata. come siamo? dobbiamo trovare un modo che sia clean e che sia... il occe blu, è quello che sto pensando. questo lo abbiamo imparato da tante donne che hanno segnato la storia e lo stiamo imparando e lo facciamo tutti i giorni con tante donne che quotidianamente si misurano con sfide anche molto grandi. e questo ovviamente senza aderire a un modello maschile. e questo ovviamente senza aderire a un modello maschile. in Italia noi abbiamo un problema grande che è l'affermazione della donna in ambito politico e aziendale ad esempio. e nella maggior parte dei casi la risposta è legata e relegata a quello che si chiama quaterosa. ok. in Italia abbiamo un grande problema di asserciare le femminili nel lavoro. e normalmente si tratta da risortare al modello maschile di fare cose. quindi abbiamo quello che si chiama quaterosa. si, quaterosa. una legge che determina la presenza femminile sia nelle competizioni elettorali che nelle aziende. un provvedimento che nasce per ridurre la discriminazione di genere. un provvedimento che serve in teoria per sfondare quello che viene chiamato il soffitto di vetro. che rappresenta quella sorta di barriera invisibile oltre la quale le donne non possono accedere a ruoli manageriali importanti o cariche politiche importanti. e questo basso, come sappiamo, è l'invisibile barriera che stoppa le donne da arrivare le sfondate che devono essere. onestamente per me, invece, questa legge rappresenta una sorta di recinto, una sorta di riserva dei panda. in cui si è voluto circoscrivere la presenza femminile e quindi se si rispettano le quote rosa va tutto bene. quindi di fatto questa legge che nasce per contrastare la discriminazione, a mio avviso, si rivela ancora più discriminatoria di prima. perchè non garantisce né la democrazia né la meritocrazia. perchè non garantisce né la meritocrazia né la meritocrazia. perchè offende proprio le donne, no? E le confina in una visione un po' anacronistica. perchè è offensivo per le donne, perchè le relegisce ad un periodo del passato. allora io credo che la parità di genere vada promossa nella società, sicuramente. ma questa promozione attraverso una quota fissa sia un modo superficiale che non aiuta ad affrontare il problema reale. questo è un problema molto più ampio e molto più articolato. quando in Italia le donne diventano le principali caregiver per la famiglia, per la famiglia dei genitori, suoceri, acquisiscono ulteriori ruoli? perchè la società spesso è assente. perchè la società spesso è assente. non sono i quotidi che aiutano a affrontare questo problema. io sono convinta che una legge elettorale non debba distinguere tra le persone. e sono convinta che una legge elettorale non debba distinguere tra le persone. una persona che elegge qualcuno a rappresentarlo, a essere il proprio portavoce nelle istituzioni, lo sceglie per le qualità di quella persona. esatto, non solo il sesso o perchè sei bianco o sei nero o sei normodotato o disabile. e non solo il sesso o per cui sei bianco o sei nero o sei normodotato o disabile. e quindi diciamo che per valorizzare e sostenere le donne le quote rosa a mio avviso sono assolutamente insufficienti e anzi peggiorano. serve proprio una visione culturale diversa. e devo dire che sono molto felice che questa visione appartenga anche al Movimento 5 Stelle che ha la rappresentanza di genere più ampia sia in Parlamento sia nell'Assemblea Capitolina. uno dei modi con i quali noi favoriamo questa presenza, ad esempio questa partecipazione alla vita politica. può sembrare una sciocchezza ma è per esempio il fatto di lavorare anche online. per cui le donne che spesso hanno mille cose da fare quando hanno un attimo di tempo vanno in rete e quindi conciliano i tempi per esempio della vita politica con i mille tempi della vita familiare, sociale, lavorativa. quindi questo in realtà aiuta le donne che hanno un milione e uno cose da fare che possono affrontare con qualsiasi che hanno e poi andare online e lavorare. e in questo modo possono lavorare e fare tutto. sembra una sciocchezza ma questo modo di fare ha moltiplicato le possibilità per molte di noi che non avevano tempo magari di andare fisicamente ad assistere a riunioni. non so... It may seem silly but it actually is quite important especially for women who may not have actually the time to go into the office and work and they can work from home online. Anche. E devo dire che in questo ambito io sono molto contenta ripeto di essere qui perché ritengo fondamentale l'apporto di organismi come WIN per riuscire a trovare nuovi modi. credo fermamente come anche WIN che caratteristiche che vengono considerate tradizionalmente femminili. come l'empatia, la cooperazione, l'intuizione, la solidarietà, anche prendersi cura. and also taking care of yourself. sono... debbano essere elementi fondamentali di questa nuova sfida che ci poniamo. They're integral elements of this new challenge that we're putting ourselves into. Esatto. Non dobbiamo pensare... una cosa che mi sono trovata ad affrontare? Non dobbiamo pensare che il tempo nel quale... che dedichiamo al nostro lavoro sia l'unico metro di misurazione del valore delle persone. perché il nostro tempo è preso da mille altre cose, no? That's because our time is taken up with a thousand and one things. però facciamo molto altro. and we do a lot. e quindi io invito tutti e tutte a sognare e a realizzare i nostri sogni, la nostra visione di futuro. Dobbiamo trovare il modo di realizzarla. So, my invitation to you is to continue dreaming and go and make your dreams come true. La stessa Eleanor Roosevelt diceva che il futuro appartiene a coloro che credono nella bellezza dei propri sogni. So, even Eleanor Roosevelt said... Il futuro appartiene... The future belongs to those who have the courage to dream. Or something to that effect. E direi che noi sogniamo tanto. And we dream a lot. E adesso dobbiamo passare dal sogno alla realtà. And now the challenge is to actually move from dreams to actual reality. Desidero quindi ringraziare ancora gli organizzatori di questa diciannovesima edizione della Win Conference. So, I'd like to thank the organizers of this wonderful Win Conference. Spero che tutte insieme riusciamo a costruire una società più lungimirante, più accogliente. So, I hope that together we're able to build a future where it's more inclusive and much better. E concludo con alcune parole del Dalai Lama. And I'm going to finish off with a few words from the Dalai Lama. Lui diceva che per progredire insieme in un percorso condiviso con i nostri compagni di viaggio... ...dobbiamo far sbocciare nella nostra società quei valori femminili. affinché cambino la mentalità delle persone. ...che sono indispensabili per costruire una pace e duratura e per il futuro dell'umanità. And these are absolutely crucial for the future of humanity. Thank you so much. Grazie. Grazie.